Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano, l'anticiclone si sta espandendo verso la nostra penisola con tutta questa settimana che dovrebbe essere caratterizzata oltre che dalla stabilità anche da temperature leggermente sopramedia e nebbie sempre più fisse. A partire dal weekend però secondo le ultime uscite dei modelli la situazione dovrebbe cambiare con il passaggio di una rapida perturbazione atlantica che porterebbe qualche pioggia a specie al nord e sul tirreno come pure temperature di nuovo in media. A seguire dando uno sguardo nel lungo termine sembra possibile che tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre l'inverno possa far sentire nuovamente la sua presenza sull'Italia con l'arrivo di aria molto fredda e mal tempo che riporterebbe la neve sulle montagne e non solo. Si tratta comunque di una prima tendenza con l'incertezza che è ancora troppo elevata come potete vedere qui a fianco dagli spaghi per formulare una previsione meteo precisa ad una distanza temporale così elevata. Vi invitiamo quindi a seguire tutti i prossimi aggiornamenti sia scaricando la nostra app meteo sia visitando il nostro sito www.centrometeitaliano.it dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano!